I nostri anziani bloccati da sette mesi nelle RSA, situazione insostenibile, la regione riapre al gioco d'azzardo, Torino riparte finalmente al completo, Mirafiori in Piazza Vittorio, contagio libero, i ballottaggi da Veneria ad Alpignano, Europa sui profughi qualcosa si muove, la giornata mondiale del migrante, l'incubo covid in Francia e non solo, la carita per il Libano, l'economia di Papa Francesco, giorni difficili in Vaticano, Torino spiritualità, cultura, le donne che sfidarono il duce, le oasi dell'estate covid, nosiglia agli studenti, la start up dei giovani, riparte la pastorale dei giovani, la voce e il tempo, l'altro giornale.